Falso imperizia e truffa sono due le accuse per le quali il PM Roberto Rossi avrebbe probabilmente chiesto il rinvio a giudizio del medico legale Pasquale Macri di fronte al GIP Pier Giorgio Ponticelli. Gli avvocati di Macri, Luca Fanfani e Carlo Bonzano hanno infatti presentato un'eccezione di costituzionalità per l'illegittima interpretazione di due articoli del codice di procedura penale con la quale il GIP aveva respinto alcune questioni preliminari sollevate dalla difesa. La decisione dunque slitta il 18 dicembre. La vicenda risale allo scorso mese di aprile quando il medico si dimise dal suo incarico nella giunta alla vigilia della presentazione delle liste per le elezioni comunali. Fu una segnalazione dell'Inps a sollevare il caso. La polizia giudiziaria individuò 12 perizie che ha poi ritenuto non corrispondenti in tutto o in parte al vero. Secondo i familiari dei pazienti in alcune visite Macri non sarebbe stato presente e in altri casi sostengono che il medico avesse svolto accertamenti per la concessione dell'indennità di accompagnamento per invalidità smentiti dai familiari. Macri ha sempre sostenuto di non essere stato capito e che quello era il suo metodo di visita. Nella prossima udienza del 18 dicembre il GIP Ponticelli dovrà decidere sul rinvio a giudizio o sul proscioglimento.